Alvia ufficialmente le lezioni alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Trento con la Lectio Magistralis di Remo Bodei che ha parlato dei paradossi del tempo. Lo storico della filosofia, professore all'Università di Los Angeles in California, ha invitato a pensare il tempo non secondo la concezione tradizionale ma come concetto da smontare per scoprirne i paradossi e le affermazioni che vanno contro l'opinione prevalente. La filosofia può servire anche a spiegare aspetti molto concreti del quotidiano e a ragionare sulla politica dei giorni nostri. Proprio su questo abbiamo sentito Remo Bodei. Io ho una concezione alta della politica, nel senso che c'è un'aspra bellezza della politica che non si riduce a mangiatoia o a conflitto. È vero che siamo messi, la nostra pazienza è messa alla prova e quindi viviamo una stagione di contrapposizioni soprattutto verbali senza entrare nella sostanza delle cose che però probabilmente essendo le situazioni è così difficile, la gente se la cava con delle promesse o i governanti se la cava con le promesse che sono dei surrogati di atti che non riescono a fare o non possono fare.